Buongiorno e bentrovati. Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa. Mattino 6 inizia subito dai quotidiani regionali, dalle prime pagine che già vedete alle mie spalle. Andiamo a leggere il titolo di apertura del centro nella edizione di Pescara. Eccolo qui, pugno di ferro contro la sosta selvaggia. Da oggi scattano le multe, i lavori sulle riviere e sulle riviere non intasano il traffico. Andiamo a leggere nel taglio alto. Partiamo dalla visita di domani del Presidente della Repubblica Mattarella. Omaggio ai patrioti Tarante e Casoli aspettano Mattarella. E poi l'incognita governo in carico a Fico per testare un'alleanza fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Andiamo adesso a centro pagina. Partiamo dalla fotonotizia. Nuovo stabilimento, partono i lavori, svolta a Bussi. Il polo chimico ama l'ambiente. Nella didascalia l'obiettivo è quello di cancellare il marchio maledetto di discarica d'Abruzzo dalla storia di Bussi. La parola d'ordine è riparare i danni che altri hanno fatto nel passato. Con l'aiuto di fondi agevolati la società chimica Bussi produrrà il PAC, la chimica 4.0, che punta all'ambiente. Andiamo a vedere anche nelle cronache. Condanna a 30 anni le motivazioni. Il fidanzato uccise Jennifer e simulò un'aggressione dopo la condanna a 30 anni di Davide Troilo per l'omicidio della fidanzata Jennifer Sterlecchini. Depositate le motivazioni della sentenza emessa dal GUP Nicola Colantonio, che parla del meschino tentativo di Troilo di simulare un'aggressione reciproca con ferite autoinferte. E poi, ancora da Pescara, un terminal bus anche alla stazione Porta Nuova. Il Consiglio Comunale ha approvato una mozione che invita il Sindaco e la Giunta a promuovere tutte le iniziative affinché si istituisca un secondo terminal degli autobus per i passeggeri in piazza Berlinguerra, antistante, la stazione ferroviaria di Porta Nuova. Ci spostiamo a Montesilvano, assessori contro Musa, Maragno ha fatto bene e questo è il titolo sulla maretta all'interno della maggioranza che sostiene il Sindaco di Montesilvano. E poi, nel taglio basso, il caso a Cappelle sul Tavo, Tari azzerata, ma la slot resta. I bar non accettano l'agevolazione del Comune sulle tasse. Meglio tenersi le slot machine e continuare a pagare la tassa sui rifiuti. Ai gestori dei bar di Cappelle sul Tavo non convince il provvedimento adottato dal Comune. Così, la cancellazione dell'Atari agevolerà le sole due attività commerciali che hanno scelto di non avere le macchinette. Scusate. Poi, la nascita del Royal Baby in Inghilterra, fiocco azzurro per Kate e William. Andiamo ancora avanti, sempre sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere la prima pagina di L'Aquila Avezzano sul Mona. Il titolo di apertura, ecco la centrale che tratta i rifiuti. L'Aquila apre due anni di stallo, dopo due anni di stallo, l'impianto per i Comuni del Comprensorio. Il taglio alto è il medesimo che abbiamo visto in precedenza. E allora scendiamo a centro pagina, partiamo dalla fotografia. Furgone nella Scarpata, feriti sei operai marsicani, incidente sulla Terni Rieti nella Didascalia. Stavano andando al lavoro quando il conducente del furgone, per cause non ancora chiarite, ha perso il controllo del mezzo, finendo in una scarpata. Sei operai marsicani sono rimasti feriti, tre di loro in modo serio. Per estrarli dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. E vedete la fotografia della macchina incidentata. Di spalla, nello spazio delle cronache, andiamo a vedere l'Aquila pronta alla rotatoria sulla Statale 17, la strada delle troppe croci, la rotatoria al bivio di San Gregorio. E poi torna in parte l'Adria segno alla Proloco, ma il bottino è magro. E ancora corteo antigasdotto, denunciato un teramano per quanto accaduto sabato pomeriggio. E poi ancora la svolta al nuovo stabilimento. Ritroviamo quanto visto in apertura nella pagina di Pescara. Il polo chimico ama l'ambiente. Nasce la fabbrica che cancella anni di contaminazioni a bussi sul Tirino. Ancora con il quotidiano Il Centro. Adesso invece andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione Teramana. Parcheggi no alle nuove tariffe. Secondo i commercianti gli aumenti possono desertificare il centro città. Anche qui andiamo a vedere la fotografia incidente a Castelnuovo-Vomano. Giovane esce illeso dalla Smart in fiamme che vedete proprio nella fotografia tragedia sfiorata. Leggiamo dalla didascalia in basso sulla statale 150 vicino a Castelnuovo-Vomano. Un giovane di Cellino, 27 anni, uscito fuori strada con la sua Smart che si è ribaltata più volte e ha preso fuoco. Lui, sbalzato fuori dall'abitacolo, è rimasto incredibilmente quasi illeso. Andiamo a vedere nelle cronache. Termo verso il voto. PD spunta il referendum su Dalberto e Cavallari. Da soli o con uno tra Giovanni Cavallari e Gian Guido Dalberto scelto dagli iscritti attraverso un referendum. Queste sembrano essere ormai le uniche opzioni del PD Teramano che ha affrontato l'incontro di ieri sera con una sola certezza, l'unità del centro-sinistra è un'equazione impossibile. Questa mattina, tra poco, ci sarà la conferenza stampa del PD di Teramo per spiegare quali saranno i prossimi passi. Ancora nel capoluogo Teramo, 5 milioni e mezzo mai incassata dal Comune la polizza del terremoto. Il commissario straordinario del Comune, Luigi Pizzi, rivela che l'ente finora non ha incassato un euro dei 5 milioni e mezzo che dovrebbe avere dalla compagnia assicurativa per i danni subiti dagli immobili comunali. E ancora Tortoreto, ex carabiniere, placca un ladro e sventa il furto. Proseguiamo sul quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a vedere la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto. Il titolo di apertura, nuovo cimitero, lavori per 20 milioni, Chieti Scalo nell'area. Ci sarà anche un giardino per le ceneri e per i bambini mai nati. Proseguiamo con la fotografia. Lacrime e rabbia ai funerali di Luciani, Chieti dall'addio al cuoco ucciso dall'ubbriaco. Come detto, lacrime e rabbia ai funerali di Francesco Luciani, il cuoco cinquantenne di Chieti, di chef dell'ospedale di Pescara, morto a causa di un incidente stradale avvenuto venerdì notte. In tanti si sono stretti al dolore della famiglia. L'incidente è stato provocato da un autista ubriaco. Andiamo a vedere anche lo spazio delle cronache. L'Agenzia delle Entrate va a caccia dei morosi. Il comune apre la caccia ai residenti morosi che non pagano le bollette e si affida all'Agenzia delle Entrate e riscossione. L'amministrazione di Primio vuole revocare alla Teatreservizi l'incarico di riscuotere le bollette arretrate e affidarlo all'Ader e il piano contro i conti in rosso. Avvasto poi, autobruciata nella notte, un'altra donna nel mirino. Nuovo caso, avvasto con una donna vittima del raid. L'incendio doloso ha distrutto un'opelcorsa parcheggiata sotto un'abitazione del villaggio Sivi. Il sindaco Francesco Menna ha bollato questo gesto come deprolevole e da condannare. Ci spostiamo a Lanciano, liquami e cattivi odori sul percorso dei turisti. Questa è la notizia che arriva dalla città frentana. Lasciamo il quotidiano in centro, adesso ci spostiamo sul messaggero. Andiamo a vedere la prima dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano in apertura a Mattarella tra i partigiani. Il presidente della Repubblica domani a Tarantapelini e Casoli per celebrare il 25 aprile nei luoghi dove nacque la brigata Maiella e il sindaco Tiberini, noi avamposto di libertà. E poi parliamo ancora delle tasse del post-sisma. L'Aquila, tasse post-sisma, il Quirinale assicura impegno. Il presidente della Repubblica risponde assicurando impegno alla lettera inviata agli dalle autorità aquilane sul problema della restituzione delle tasse. Andiamo a vedere adesso a centropagina. I Lamaletto convincono il PM, tramonta la pista familiare Pescara. Le indagini sul delitto Neri puntano sul passato della vittima. Ieri c'è stato anche l'interrogatorio dello zio di Alessandro Neri, Camillo Lamaletto. Sabato invece c'era stato quello del cugino, Gaetano Junior. Poi ritroviamo l'incendio dell'auto a vasto, torna l'incubo auto a fuoco nella notte. Poi ancora a Pescara l'indagine, giovani e straniere, ecco l'identikit delle prostitute. Nella fotografia a San Buceto, nuovi sbarchi nell'area degli Iper, cresce l'Emporio d'Abruzzo. Il nuovo hub commerciale da 7500 metri quadrati ospiterà tre insegne della grande distribuzione. Andiamo a vedere di spalla il costume, innamorarsi a 70 anni, la nuova sfida degli abruzzesi. Due su tre ci credono, secondo Reale Mutua, l'unico freno, i figli del partner. Andiamo nel taglio basso, Teramo in ospedale, arriva il bed manager, la nuova figura che dovrà gestire il sovraffollamento districandosi nell'assegnare posti letto, tra l'altro sempre in minor numero, tra ricoveri programmati e quelli urgenti. Nel taglio alto, le altre notizie, il ciclismo, il giro in Abruzzo, Maggirà Pantani e le vittime di Rigopiano, e poi la MotoGP, Andrea Iannone in lacrime, ho spazzato via tutte le cattiverie. E ancora il calcio, i tecnici pescaresi di Francesco, notte magica con il Liverpool per la semifinale di Champions. Oddo invece ha i saluti, destino opposto di due grandi protagonisti in Serie A, pullman di tifosi da San Giovanni Tettino per Roma, Massimo sta per essere invece esonerato da Udine. Andiamo ancora avanti con la città che chiude questa rassegna dei titoli regionali. Andiamo a vedere dunque la prima pagina, in apertura a Kona, ecco il progetto delle verità. La cabina elettrica spostata dall'altra parte della strada lascia il posto alla piazza, siamo chiaramente a Teramo. E poi nella fotografia a Castellalto, Smart si scontra con un muro e prende fuoco, salvato dalle fiamme, grazie all'intervento dei pompieri, ma anche grazie a un po' di fortuna. C'è in prima pagina la riflessione di Marcello Martelli a cercasi fuoriclasse, è il titolo dell'articolo. E poi nel taglio alto, Roseto degli Abruzzi, la sede del 118 deve andare alla Casa Rosa, Giulianova Centrosub pronto entro fine giugno, di spalla consultari e sabato gli iscritti del PD che si scelgono tra Adalberto e Cavallari per quanto riguarda le amministrative. Poi fronte spaccato, il Molise non porta consiglio al centrodestra. E ancora progetto Pedemontana bloccato, Bracco dove sono i fondi per collegare la Valfino alle Marche. Nel taglio basso, Tortoreto, De Hor, rinvio di un anno per le regole. La Serie C, il Teramo benedice le penalizzazioni, altrimenti sarebbe già condannato. Lasciamo le prime pagine regionali, adesso apriamo come di consueto lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, politica interna in primo piano, Fico, Son del PD, Ira di Salvini. È il titolo di apertura fino a giovedì per verificare l'intesa apertura di Martina. Il Molise va al centrodestra, il leader leghista, una presa in giro. Di Maio, lui ha chiuso. Buona fortuna. Questo è il sunto di quanto sta accadendo nella politica italiana. Di spalla, Lega e Forza Italia, la spinta all'unità dalle urne, scrive Venanzio Postiglione in uno dei due editoriali di prima pagina. E poi Demme, 5 Stelle, la zavorra di veleni sul patto e l'articolo di Massimo Franco. E poi andiamo a Toronto, a centropagina. Almeno 9 morti, arrestato un uomo, furgone sulla folla, strage in Canada, puntava 1 ad 1. E qui vedete la fotografia della devastazione che ha lasciato alle sue spalle. Andiamo su Repubblica, anche qui il titolo è sulle consultazioni. Fico cerca il PD, il gelo di Renzi. Mattarella affide il mandato al Presidente della Camera. L'ipotesi di un patto con i 5 Stelle spacca i democratici. Svolta del Ministro dei beni culturali. Vediamo le carte grilline. L'intesa si può fare la rabbia di Salvini. Poi il punto di Stefano Folli. La via stretta del Quirinale sta cercando di venire fuori da una situazione non certo semplice. Il caso è un contratto per tutti i gusti, scrive Sebastiano Messina. E poi c'è l'intervista a Franceschini. Non possiamo dire soltanto no. Ora il confronto, come abbiamo già letto dal titolo in prima pagina. E poi nella fotografia, caro Presidente, usi l'Auto Blu. L'articolo è di Sergio Rizzo e si riferisce al Presidente della Camera Fico. Andiamo avanti. Sulla stampa, il titolo di apertura, ultima chiamata di Mattarella. In carico a Fico per un esecutivo 5 Stelle PD, Ira Di Salvini, che minaccia una passeggiata a Roma. Il Presidente, ho atteso tre giorni, ma non è emersa alcuna novità. Lotti tentato dalla trattativa, Boschi invece è contraria. In prima pagina poi troviamo anche nelle fotografie il caso di Alfie. Alfie diventa italiano, ma Londra stacca la spina dopo la decisione sull'ultimo ricorso. C'è questo parallelismo invece con quanto accaduto a Torino e Torino riconosce il figlio di due mamme. L'infanzia al centro di due casi, il governo concede la cittadinanza al piccolo inglese. Appendino iscrive all'anagrafe il neonato. Diamo invece nel taglio alto per una curiosità l'anteprima del nuovo film di Sorrentino. Sorrentino nasconde Berlusconi nel film, appare dopo 75 minuti. Esce oggi al cinema Loro 1. Il leader tira un sospiro di sollievo e annuncia di non voler vedere il film. Che è diviso, ve lo ricordo, in due parti, Loro 1 e Loro 2. La seconda parte uscirà il 10 maggio. Andiamo sul sole 24 ore. Il titolo di apertura, procedura dell'Unione Europea per l'Ari Italia. Team primo round a Bolloré. Le partite nazionali. Il governo accelera giovedì il decreto. Lufthansa in pole. Stop dal tribunale a Elliot. Niente revoca parziale del CDA e la spiegazione del titolo che riguarda, della seconda parte del titolo che riguarda Team. Mentre per quanto riguarda l'Italia, l'Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione per aiuti di Stato nei confronti del prestito ponte da 900 milioni di Euro erogato all'Italia. Andiamo a vedere anche le consultazioni, l'incarico Mattarella. Dare un governo al Paese. Di Maio chiude la Lega. Italia ferma in sei mesi. Solo un decreto legge FICO verifica l'ipotesi Movimento 5 Stelle e PD rating 24. Mancano 339 decreti attuativi. 140 sono scaduti. Andiamo nel taglio basso. Sanzioni a Mosca, apertura degli Stati Uniti, timori di inflazione spingono al 3% i rendimenti sui titoli di Stato americani a 10 anni. Più tempo a Rusal per rispondere e l'alluminio perde il 7%. Cambiamo testata, adesso passiamo sul fatto quotidiano. Ultimo giro. FICO chiama il PD. Renziani fuori di testa e Di Maio saluta Salvini. Mattarella lo incarica, Orfini e Marcucci lo sabotano, Martina li ferma. Questo è il titolo sulle consultazioni e sulla formazione che appare sempre più difficile del nuovo governo. E poi nel taglio alto, da oggi nei cinema, loro e il Berlusconi di Sorrentino finì tatuato su una chiappa le ragazze e la coca per arrivare a lui, cioè a Berlusconi. Questo è un po' l'anteprima del film. Andiamo sul manifesto. Il titolo su questa foto della stretta di mano fra Mattarella e Fico. Missione impossibile. Tiro incrociato sul Quirinale che manda in esplorazione il presidente Fico per verificare la maggioranza 5 Stelle e PD. Di Maio chiude il forno con la Lega. Martina accetta il dialogo. Ma i Renziani alzano un muro e il Salvini attacca. L'incarico è una presa in giro. Andiamo in Molise adesso con il titolo. Il Molise al centro-destra crolla il PD. Elezioni regionali. Movimento 5 Stelle. Primo partito ma non riesce a conquistare il governo della regione. Andiamo sul messaggero. Il mandato a Fico scuote il Partito Democratico. In carico per esplorare l'intesa 5 Stelle ed Emma Mattarella. Niente novità da 5 Stelle e Lega. Fate presto. Di Maio chiude al carroccio. Renziani contro la trattativa. Salvini passeggiata di protesta a Roma. E poi restando alla politica. Regionali nuovo flop della sinistra. Molise al centro-destra. Frana grillina. Sorpresa forse Italia supera i leghisti. Seppur di qualche decimale di punto. Andiamo adesso a centro-pagina. Nella fotografia furgone sulla folla a Toronto. E l'ombra dell'Isis. Arrestato l'autista. La polizia ha ucciso almeno 9 persone. E poi c'è l'Italia. Sgambetto dell'Unione Europea. Basso l'interesse al 10% sul prestito dello Stato. Bruxelles apre un'indagine per aiuti pubblici. Scende a 1.480 il numero dei lavoratori in cassa. Integrazione straordinaria. Andiamo avanti sul quotidiano Il Tempo. 1.000 euro ad ogni Rom e ai poveri Romani nulla. Il dossier. Crescono i senza tetto che mangiano e dormono in strada. Ma la raggi incentiva i rimpatri. Regalando fino a 3.000 euro a famiglia. E poi abbiamo visto il film di Sorrentino. Il Berlusconi chiamava a farsi amare. Scrive Marcello Veneziani. Andiamo a vedere anche il Tempo di Oscio. Come sempre un titolo satirico. Un prezzo di fico per il governo. Guarda come mi avete ridotto. Sto divano sembra indicare un mattarella. Sicuramente inusuale. E poi andiamo a vedere anche lo sport. Perché chiaramente il Tempo Giornale Romano pone attenzione a quanto accadrà questa sera. Stasera semifinale di Champions. La Roma a Liverpool. Nella Tana. Tellex Salah. Ora a Libero. Si salvi chi può. 1.500 profughi sbarcati. Nuova ondata nera. Scrive Libero. Torna il caldo e torna la tratta di immigrati verso l'Italia. Scatenate le navi delle ONG. Ma anche quelle militari. Tutti ci scaricano umanità disperata. Noi paghiamo le spese. Mentre l'Europa se ne infischia di ogni problema. E poi il film su Berlusconi più lungo di Via Colvento. Da oggi nelle sale la prima parte di loro di Paolo Sorrentino. Per ora la pellicola è un po' inutile. Nel secondo capitolo si annunciano colpi bassi. Diamo sulla verità. Anche qui il titolo di apertura di politica. Il centrodestra vince in Molise e quindi escluso dal governo. Affico il compito di sposare 5 Stelle e Renzi. L'esito del voto terrorizza i democratici in caduta libera e allarme grillini. Se si andasse alle elezioni ora rischierebbero di arretrare anche loro. Ecco perché alla fine i due partiti potrebbero mettersi insieme. Questa è la lettura del quotidiano di Maurizio Belpietro. E poi l'Italia dà la cittadinanza ad Alfie e blocca la sua esecuzione. Gli inglesi affidino il bimbo a noi. Anche se pare che nella notte siano iniziate le procedure per staccare le macchine. Vedremo come andrà a finire questa storia. Ancora illusione è finita. Riprende l'ondata di sbarchi. È il titolo sulla migrazione. E poi il secolo d'Italia. Il quotidiano che fa riferimento a Fratelli d'Italia. Non sarà fico il titolo sulle consultazioni. In primo piano Molise centrodestra vince un segnale per il paese. E poi Trump blocca i migranti. Sono una vera sciagura. E ancora si ridiscute di flat tax la tassa piatta che piace. Andiamo su avvenire. Il titolo principale è sul caso di Alfie. L'ultima speranza. Alfie diventa italiano. Il governo dà la cittadinanza. Appello del Papa a Liverpool sono state rallentate le procedure per il distacco del respiratore al bambino malato. Proteste in piazza davanti all'ospedale. Nella fotonotizia troviamo il tema del bullismo. Le esperienze virtuose di ragazzi, professori e famiglie. Scuola contro i bugli. Ecco le alleanze educative. E poi c'è anche il titolo di politica. Di Maio chiude alla Lega. Fico esplora con il PD. Andiamo sul secolo XIX. Il quotidiano genovese apre con la politica. Fico due giorni per provarci. Mattarella affida un incarico esplorativo a tempo al presidente della Camera. Colloqui per un governo Movimento 5 Stelle e PD. Salvini minaccia una passeggiata a Roma. Andiamo a centropagina. Ritroviamo quanto accaduto in Canada. Furgone sulla folla strage a Toronto. Nella città del G7. 9 morti e 16 feriti. Fermato il killer. Atto deliberato. Passiamo al mattino di Napoli. Il titolo principale di politica. In carico a Fico. PD diviso. Di Maio con la Lega. Ci ho provato. Mattarella ha atteso tre giorni senza avere nessuna novità. Martina sia al confronto noi dei Renziani. Era di Salvini. È una perdita di tempo. Anche qui c'è il parallelismo tra Liverpool e Torino con il caso di Alfie e quello del bambino registrato con due mamme. E poi invece nel taglio alto il mattino torna sull'impresa del Napoli a Torino. Napoli vive un sogno che la festa continui. Da Forcella a Posillipo il giorno dopo il trionfo sulla Juventus. non è solo calcio ma il bello deve ancora venire. Anche perché il campionato è ancora tutto da giocare. Andiamo adesso a vedere i principali quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport e ripartiamo dal duello Juve-Napoli. Volatona-Scudetto. Juve-Napoli su chi punto? C'è un punto di differenza fra le due squadre. Avanti la Juve. Allegri con esperienze e capacità di soffrire. Sarri a meno uno con entusiasmo e gioco. Parte un torneo mozzafiato di quattro partite. Buffon striglia la squadra. Tensione in spogliatoio. Il doppio ex Mauro. Sono deluso dai bianconeri. Per gli azzurri è già un successo. E poi c'è l'analisi di Arrigo Sacchi. Sarri un maestro ma Max è favorito. Andiamo nel taglio alto. Qui c'è invece una Roma formato Beatles di Francesco a Liverpool. Suona la carica. Vogliamo Kiev-Roma. All you need is goal. Non love come la canzone. L'andata della semifinale di Champions. Questa sera alle 20.45 su Canale 5. Nel taglio basso troviamo invece il Milan. Milan come balla Mirabelli. Il DS ad alto rischio. Elliot spinge per un nuovo corso tecnico. La proprietà cinese boccia l'arrivo di Bernard. Possibile una svolta. Ancora le altre notizie. Posticipo ai Rosso-Blu. Genova tre acuti. Magia di Pandev. Verona affonda. E poi il presidente Granata Cairo. Il bilancio Toro. Stagione di rimpianti. Un grande del pugilato. Benvenuti. Fa 80 anni. Sono stato forte. Ma mai cattivo. Andiamo sul Corriere dello Sport. E qui il titolo principale sulla Roma. Sulla semifinale di Champions. Roma riscrivi la storia. I giallorossi ad Anfield per cancellare la sconfitta della finale di 34 anni fa. Napoli. Città in delirio. E domenica tutti a Firenze per la partita contro la Fiorentina. Esauriti in due ore. I biglietti per la partita con i viola. Con lo scudetto. Riaperto dalla vittoria allo Stadium. E poi Carlo Azzurro. Ancelotti. CT della Nazionale. Manca solo l'accordo sui soldi. Sono iniziate le grandi manovre della FIGICIR. E dei nostri tecnici. Ha visto Fabricini e Costacurte in un albergo di Roma. Si tratta. Staremo a vedere. Anche su Tutto Sport. Andiamo a vedere il titolo di apertura. In realtà è un titolo doppio. Buffon frusta la Juve. Roma, ora Qatar. Stasera l'andata di Champions per la semifinale a Liverpool. L'Italia fa il tifo per i giallorossi che sulla maglia presentano il logo del nuovo sponsor. Oltre 40 milioni in tre anni. Sul fronte bianconero. Il portiere furioso con i compagni nell'immediato post-gara con Napoli. L'analisi della sconfitta dagli errori di Allegri. All'involuzione di Dybala. La scoperta di Koulibaly. Tutti i segreti. E poi c'è il Milan nel taglio alto. Elliot un gol per il Milan dossier esclusivo. Così il fondo di investimento americano garantisce un solido futuro al club. Andiamo nel taglio basso. Troviamo il Torino. Belotti ora svegliati così spacchi il Torino. Ci fermiamo per il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore con gli esperti di Meteo 6 e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna per andare a vedere le pagine interne dei quotidiani regionale ebruzzesi. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Prima di andare a vedere le pagine interne dei quotidiani abruzzesi vi diamo una notizia da poco arrivata in redazione. Si tratta di un'operazione condotta dai carabinieri del NAS Abruzzo. Due imprese alimentari sono state sottoposte a provvedimento di sospensione dell'attività. 380 kg di alimenti sono stati sequestrati. 12 persone sono state segnalate all'autorità sanitaria e amministrativa con violazioni amministrative pari a 18 mila euro. Il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS nel settore della ristorazione etnica di tutto l'Abruzzo. 16 nel complesso le attività ispezionate e i controlli dei militari hanno riguardato la commercializzazione di prodotti alimentari in attività gestite da cittadini extracomunitari. L'attenzione è stata posta sui requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature, sulle procedure di bonifica dei prodotti ittici destinati ad essere consumati crudi, tipo sushi e sashimi, sulla traccibilità dei prodotti alimentari nonché sulle informazioni obbligatorie al consumatore. I servizi sono stati svolti in collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente e con i carabinieri territoriali. E dunque possiamo tornare sulle pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Ripartiamo dal centro con questa doppia pagina sul polo chimico di Bussi. Il titolo Bussi nasce l'industria che rispetta l'ambiente. Inaugurato il cantiere della fabbrica del PAC, la sostanza che depura l'acqua, così l'Abruzzo può lasciarsi alle spalle 100 anni di terreni contaminati. E poi un nostro nuovo impianto purifica la falda sotterranea. Parla Greco, Addie è socio della SCB, sperimentiamo anche idrogeno per le auto. All'invito rispondono tutti dal PD a Forza Italia, ma i 5 Stelle danno forfè. Andiamo invece nel taglio basso e parliamo della Sevel di Atese. Il Ducato vola a quota 300 mila a giugno il piano industriale. Ieri c'è stata una conferenza stampa della FIM CISL che ha vinto le elezioni per le RSA della fabbrica di Atessa, portando a casa 22 delegati con 20.053 voti. Possiamo andare a vedere il servizio sulla conferenza stampa. Noi ci troviamo ad avere una situazione regionale a macchia di leopardo, in cui dobbiamo da una parte mantenere la grande occupazione delle grandi imprese che stanno lavorando e che non dobbiamo perdere, ma dall'altra parte dobbiamo anche cercare di dare una nuova vitalità alle piccole e medie imprese, che rappresentano comunque l'altro 90% e oltre di quello che è il sistema produttivo abruzzese. Le piccole e medie imprese stanno soffrendo moltissimo, sia dal punto di vista del credito e sia di quello che è la competitività sul territorio. Da questo punto di vista, quelli che sono gli strumenti di programmazione industriale previsti alla regione, che sono il masterplan, il patto per lo sviluppo e la carta di Pescara, sembra un discorso ripetitivo quello mio, ma è il discorso vero, il discorso reale che dobbiamo portare avanti. Se non mettiamo in cantiere quella programmazione ottima che abbiamo pure raggiunto insieme tra sindacato e giunta regionale, non parte, non decolla veramente una competitività vera dei nostri territori e della nostra regione. Su quello dobbiamo puntare per creare anche maggiore occupazione nel nostro abruzzo. La CISL si riconferma, primo sindacato in Sevel, una grande soddisfazione? Sì, una grandissima soddisfazione che viene frutto di un lavoro svolto da tutte le RSA e dei militanti che abbiamo all'interno dello stabilimento. Abbiamo cercato con questa tornata elettorale di fare una lista giovane, competente, capace, con grosse professionalità. Il nostro punto di forza è lo stare vicino ai lavoratori e competenza. Quello che forse in questi anni è mancato in quasi tutti i punti di riferimento delle altre organizzazioni. Si tratta anche di una grande responsabilità ora per il futuro, per la crescita ulteriore dell'azienda più importante della nostra regione? Sicuramente sì. Noi non è che quest'anno è la prima volta che siamo maggioranza all'interno dello stabilimento. Continueremo sicuramente a fare lo stesso lavoro fatto in questi anni per i beni dei lavoratori e anche del territorio abruzzese. Adesso restiamo al quotidiano Il Centro. Apriamo la pagina Abruzzo. Domani la visita del Presidente. Il titolo Taranto e Casoli aspettano Mattarella. Il capo dello Stato in Abruzzo per onorare la memoria della Brigata Maiella, con lui anche la vice della Camera Carfagna. E poi verso le regionali Forza Italia all'attacco punta alla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente D'Alfonso che è stato oggetto di un blitz delle Iene. Le Iene attaccano. D'Alfonso risponde. Filippo Roma delle Iene ha portato questo sedere di plastica ad Alfonso come simbolo del doppio incarico di Presidente e Governatore. E poi andiamo nel taglio basso e troviamo il Giro d'Italia che rende omaggio a Rigopiano. Dopo 19 anni la carovana rosa torna sul Gran Sasso il 13 di maggio e il 14 tappa sul luogo della tragedia. Ieri c'è stata la presentazione dell'evento. Andiamo adesso sulla pagina Abruzzo del Messaggero. La festa della liberazione in primo piano. Mattarella in Abruzzo per la Brigata Maiella. Il Presidente della Repubblica domani a Taranta Peligni e Casoli. Il Sindaco Tiberini dice noi siamo stati avamposto di libertà da sempre. Scendiamo nel taglio basso. Ritroviamo la notizia che abbiamo visto in precedenza anche nel servizio. Elezioni RSU. La Fim CISL fa il pieno. Alla Sevel si vola. Ma non basta. Netta affermazione alla provincia di Pescara. Invece anche all'Ateneo dell'Aquila e all'Asl pescarese. Tra amministrativi vince la UIL. Questo per quanto riguarda le elezioni anche nella pubblica amministrazione. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo della città. 25 milioni per la depurazione delle acque. Nuova vita per la società chimica di Bussi che avvia il cantiere del megaprogetto per il rilancio del sito. E poi ritroviamo anche Mattarella pronta ad interessarsi al caso della restituzione delle tasse. L'annuncio del Vice Presidente della Regione Giovanni Lolli dopo un colloquio proprio con il Quirinale. L'omicidio di Pescara. Gli inquirenti ascoltano lo zio venezuelano di Alessandro. L'uomo ha confermato i dissapori sulla gestione dell'azienda di famiglia. La tenuta Feuduccio di Orsonia. Ieri c'è stato appunto nel pomeriggio l'interrogatorio. Andiamo a vedere anche quest'altra notizia invece che arriva dal Chietino. I Bulli possono tornare a lezione ma dopo devono andare subito a casa. E possiamo andare a vedere questo servizio che riguarda, lo ricorderete, la vicenda avvenuta nell'Istituto Superiore Alberghiero di Villa Santa Maria. Vediamo. Potranno tornare a scuola per frequentare le lezioni ma subito dopo dovranno rientrare a casa dai genitori e rimanervi i due studenti minorenni responsabili di aver aggredito, minacciato e insultato nell'Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria un ragazzo di 15 anni del Frentano. E' questo il provvedimento adottato dal GIP del Tribunale dei Minori dell'Aquila Cristina Tettamanti al termine dell'interrogatorio di garanzia nei confronti dei due minori che avevano finora un obbligo di permanenza in casa. I fatti per i quali i due studenti sono indagati si riferiscono al periodo che va dall'inizio dell'anno scolastico fino a novembre scorso. In particolare è segnalato l'episodio dell'8 novembre 2017 finito alla ribalta della cronaca. I due ragazzi avrebbero negato quanto denunciato dalla famiglia della vittima di atti di bullismo. Le accuse nei loro confronti sono di stalking, violenza aggravata e continuata e lesioni aggravate. Ad eseguire il provvedimento di restrizione in casa erano stati i carabinieri della compagnia di Atessa competente per territorio. L'inchiesta della procura minorile prosegue. La concessione della possibilità di andare a lezione ha soddisfatto entrambe le difese, in quanto i ragazzi rischiavano di perdere l'anno scolastico. Entrambi gli studenti all'epoca dei fatti furono sospesi per tre giorni dalla scuola. Si è vero l'intervento del sindaco di Villa Santa Maria, Pino Finamore, che stigmatizza il comportamento dei due alunni accusati di atti di bullismo. Il sistema funziona se si tolgono le mele marce, dice il sindaco, diplomato al Marchitelli e chef per anni a Montecitorio, sottolineando il prestigio internazionale della scuola, dove dice ci sono 730 alunni che non vanno danneggiati, bravi docenti e operatori. Il buon nome della scuola va tutelato, conclude il sindaco, ma chi fa abusi va espulso immediatamente. Andiamo avanti, torniamo sul messaggero. La riviera supera la prova dei cantieri e il titolo di apertura delle pagine di Pescara. I lavori sui tratti nord e sud del lungomare provocano disagi contenuti. Funzione è il piano di viabilità alternativa del comune. Il vice sindaco Blasioli ringrazia i cittadini per la collaborazione e gli albergatori protestano per il degrado delle aiuole. Lato monte, gli hotel rimasti isolati, hanno allestito deschi informativi per i clienti, ma va bene riqualificare la città, dicono i titolari. E poi un'oasi verde nell'area degli ex monopoli a giugno, via ai lavori per il parco dello sport. Nel taglio basso la maratona della danza. A Pescara ci sarà questa Kermesse con un ricco programma al matta. Andiamo ancora avanti. Da anni non vedevo Alessandro, lo zio Camillo, si tira fuori tra le nostre famiglie di sidio e freddezza, ma nessuna faida. La deposizione di Lamaletto Senior suggerisce piste alternative. Ieri c'è stata questa testimonianza, più che interrogatorio, che i due Lamaletto non sono indagati. Anche il cugino della vittima ha convinto gli investigatori che ora puntano sugli affari di Neri. E poi l'indagine straniere e giovanissime, identikit delle luccere sulle strade pescaresi, ricerca sul campo degli operatori della Caritas, uomini e transessuali si concentrano in zona stazione. Andiamo a vedere anche la pagina successiva. Emporio d'Abruzzo, la corsa dei big, il nuovo hub commerciale da 7500 metri quadrati in arrivo accanto agli iperesistenti, ospiterà le insegne Mauris, Euronix e Globo. Coinvolta nel risico anche la catena Lerroa Merlaine che punta ad ampliare il proprio store con un reparto di giardinaggio. Sono le grandi manovre a San Giovanni e Teatino. Poi Montesilvano, caso Musa, centrodestra diviso, assessori solidali con Maragno. Il sindaco non risponde agli insulti dell'ex assessora, ma chiama raccolta l'intera giunta. Fratelli d'Italia pone il nodo a Forza Italia e incassa l'appoggio dei salviniani. Andiamo sulle pagine di Pescara del centro. In apertura i cantieri a Pescara. I nuovi cantieri non fermano gli incivili, sosta selvaggia da oggi scattano le multe. Andiamo nella pagina successiva. Piste ciclabili, lavori doppi, commercianti di Viale Muzzi, chiederemo i danni al Comune. I progetti per la città. Un polo universitario per Pescara Sud. All'esame del Consiglio, il piano che rivoluziona l'area. Nuovo stadio, piscina, parcheggi più grandi e isole pedonali. Intanto alla stazione di Porta Nuova ci sarà un terminal del bus, almeno questa è l'intenzione del Consiglio Comunale che ha approvato una mozione per realizzare un capolinea dei pullman per Roma, Bari e Napoli. Nel taglio basso le eccellenze della sanità sfilano in provincia. Nella pagina successiva, la cronaca, il diritto di Jennifer Sterlecchini. Troilo si ferì per simulare l'aggressione. Alterò le prove e le motivazioni del giudice che ha condannato a 30 anni l'ex fidanzato della giovane uccisa nel 2016. ritroviamo anche l'omicidio neri, ascoltato anche lo zio Camillo Lamaletto per un'ora e mezza davanti al magistrato. Resta in piedi la pista dei soldi. Andiamo ancora avanti. Scuola d'eccellenza per rilanciare Zanni, investimento da 350 mila euro del Comune, ospiterà bimbi tra gli 0 e i 6 anni. Andiamo nella pagina successiva. Olivieri diventa rapper e accende il primo maggio dopo un duccio anche il comico entra nella scheletta dei protagonisti del concerto. Andiamo ancora avanti. Nella pagina di Montesilvano ritroviamo le beghe di maggioranza al Comune, le reazioni alla Revoca, Musa fuori dalla Giunta, gli assessori con Maragno. Le sue visioni politiche si contrappongono a quelle dell'attuale amministrazione, ma il centrodestra infibrillazione, Fratelli d'Italia, prioritaria l'unità della coalizione. Andiamo ancora avanti. La Questapone si salva e si appella a tutta la città. Montesilvano, il calcio a 11, la squadra festeggia in anticipo, resterà in eccellenza. Il Presidente Corneli, un altro miracolo, ma serve l'appoggio delle istituzioni. Andiamo a vedere invece la pagina dell'area metropolitana, l'Arta, la costa francavillese, completamente balneabile. I prelievi fatti in sette punti del litorale resta il rivieto per legge a Fosso San Lorenzo. Il Sindaco soddisfatto, impegnati al massimo per garantire un'estate di alto livello. Supermare Cross da oggi rivieti sul lungomare Tosti, sempre a Francavilla. E poi ancora Consumi Luce, confronto con la ditta da Menovat, ancora da Francavilla. Andiamo nella pagina successiva, quella della Val Pescara. Cammino Volto Santo, il Comune cancella il quarto pellegrinaggio. Manoppello, guerra tra amministrazioni e organizzatori, creata un'altra iniziativa, ma noi eravamo capofila. Ospedale, i sindaci contro l'atto aziendale. Siamo appenne firmato il documento che chiede di sospendere il declassamento del San Massimo. A Cappelle sul tavolo, taria zerata, ma i bar non eliminano le slot. Passiamo alla pagina successiva. E dunque siamo a Chieti. La grande opera, il nuovo cimitero da 20 milioni. Via i lavori tra due mesi, le cinque imprese incaricate e pronte a iniziare gli scavi a Santa Filomena. E possiamo ascoltare l'intervista all'assessore di Chieti, Colantonio. Il cimitero sarà intitolato proprio Parco della Memoria. È una struttura ex novo che avrà la sua collocazione in prossimità di Strada Ombrosa, che è una strada che è una parallela di via Liri, che si trova proprio dietro il quartiere Santa Filomena. È stato un lavoro che ci ha tenuto impegnati per diversi anni, perché è stata fatta una variazione urbanistica. Abbiamo ricollocato il cimitero dove era la sua collocazione originaria nel piano regolatore di Chieti. L'emergenza delle tubulazioni che si assistono e ci mettono in difficoltà sulla città per quanto riguarda la tubulazione quotidiana dei decessi, ha fatto fare questa scelta. Questa scelta di fatto dà la possibilità di avere nuovi 30.000 posti a disposizione per i prossimi anni, con un project che verrà gestito per 30 anni e con una qualità di lavoro che ha fatto sì che questo progetto si classificasse primo. Sarà un cimitero che andrà a curare molto l'estetica e il rispetto per il defunto. Ci sarà una nuova chiesa, quindi il quartiere Santa Filomena avrà una propria chiesa che è collocata in prossimità all'interno del cimitero, come la chiesa di Sant'Anna, però avrà una chiesa, un simbolo che caratterizzerà quel luogo. Ci sarà una sala del cordoglio, quindi quello che è diventato per molti una soggezione, anche una questione pure scomoda di andare a prestare le proprie condoglianze a un defunto presso l'ospedale o addirittura presso l'abitazione, verrà superata da un sistema di cordoglio che viene fatto già in parecchi paesi d'Europa e anglosassoni in una sala del cordoglio dove sarà possibile fare le reossegue al proprio defunto. Siamo arrivati al dunque, l'impresa è pronta per partire, ha formalizzato, sta definendo, ha formalizzato le acquisizioni delle aree che gli permettono oggi di presentare l'esecutiva ed andare all'inizio lavoro. Andiamo avanti, restiamo a Chieti, giorno di dolore al Tricalle, in centinaia danno l'addio allo chef ucciso dall'ubriaco, chiesa di San Francesco Gremita, lacrime e rabbia per il frontale nel tunnel, l'abbraccio degli amici dell'alberghiero e dei colleghi dell'ospedale di Pescara allo chef Francesco Luciani. Andiamo adesso a vedere il messaggero nelle pagine di Chieti, asili comunali e privati, rivolta dei genitori e maestre. Le famiglie di Chieti famiglie e le educatrici costituiscono un comitato, il sindaco torni indietro, scoppia la polemica anche sulla cessione di una delle tre farmacie municipalizzate. Di primio nel mirino Marzoli sta dando l'ultimo colpo di grazia, il capoluogo Febo prende in giro i cittadini. Nel taglio basso, suicidio in carcere, detenuto si impicca con una cintura, un 37enne trovato senza vita dei compagni e ha deciso di farla finita nel bagno della sua cella nel carcere di Chieti. Andiamo avanti, un'altra auto in fiamme, torna la paura vasto nella notte un'opercorsa distrutta dal fuoco al villaggio Siv, scattano le indagini dei carabinieri, residenti preoccupati e giallo nel mirino una famiglia lontana dagli ambienti criminali, l'intervento dei pompieri evita guai peggiori. Passiamo adesso alle pagine di Teramo, stangata parcheggi in centro, siamo sempre sul messaggero, la protesta dei ristoratori, anche i commercianti sulla stessa posizione, il tema scatena anche i suggerimenti dei candidati a sindaco alle prossime comunali. Per la centrale della Cona arriva la delocalizzazione, scrive il messaggero, poi nel taglio basso sovraffollamento in ospedale, ecco il bed manager, una figura trasversale nata per garantire l'appropriatezza dei ricoveri. Nella pagina successiva bandiere blu aumentano i turisti. A Giulia Nova il sindaco Mastromauro convocato a Roma il 7 di maggio per ritirare il prestigioso sigillo messo in paglio dalla FEE. Determinanti le qualità delle acque e anche il lavoro svolto nel campo della raccolta differenziata. Arrestato tre volte in due giorni ladri nella roulotte dei giustrai e poi ancora nel taglio basso una sola lista in lizza contro guerra. Nereto di Flavio non si ripresenta. Andiamo a vedere anche le pagine di Teramo sul centro. PD, ipotesi, referendum tra Adalberto e Cavallari. Al vaglio del partito la consultazione degli iscritti per la scelta del sindaco. Questa la novità a sinistra. Mentre nel centrodestra Lega slitta ancora la decisione sull'alleanza. Il carroccio resta in bilico tra la svolta autonomista con i civici e il sostegno diretto a Giandonato Morra. Nella pagina successiva sisma ma incassati dal comune i soldi della polizza assicurativa. Questo rivela il commissario Pizzi replicando all'ex sindaco Brucchi sulla manutenzione delle strade. E poi Smart si ribalta e va a fuoco. Giovane Salvo a Castelnuovo il guidatore è sbalzato fuori prima del rogo a Teramo denunciato ubriaco al volante. Nella pagina successiva sempre nella provincia ex mattatoio il recupero resta bloccato. Pineto non decolla il piano del comune per farlo diventare un parco. A Silvi intanto Tari niente multe sulla prima rata. Andiamo a vedere anche la città per completare la lettura delle notizie dal Teramano. La cabina della Cona attraverserà la strada e questa la notizia che riguarda la delocalizzazione della centrale Enel. Abbandonato il sogno di spostarla a Gattia. Il quartiere avrà comunque una piazza intitolata a Don Gianni. La soluzione è che l'impianto verrà centralizzato al di là della statale nella zona già occupata dai capannoni dell'Enel. Andiamo ancora avanti. Il Molise non porta consiglio al centrodestra. La coalizione unita dimostra di poter vincere sul Movimento 5 Stelle ma a Teramo la spaccatura permane. L'abbiamo visto anche in precedenza sul Messaggero. Problemi ci sono però anche a sinistra. Consultari e PD tra Dalberto e Cavallari. Niente candidato di partito l'appoggio ad uno dei due civici. Si deciderà sabato tra gli iscritti. Andiamo ancora avanti. Prima ora di sosta a 50 centesimi per aiutare i negozi. Dopo Cavallari anche il 5 Stelle raccoglie e rilancio le proposte del Consorzio Shopping in Teramo Centro. Il sindacato contro stravince all'IZS la battaglia FSI raccoglie oltre due voti su cinque e leggendo quattro rappresentanti su nove. Nella pagina successiva nuova rete turistico-culturale affidata ai giovani. La provincia ha vinto il bando Real Start del Lanci. In provincia Bracco denuncia lo stop alla pedemontana. Il consigliere chiede conto dei fondi promessi per il completamento della strada tra Val Vibrata e Valfino. Domenica bestiale per i vigili del fuoco. Pompiera le prese con il salvataggio di un greggio isolato sul Vomano e di un puledro a Rocca Santa Maria. Ancora salvato dalle fiamme della sua Smart. Abbiamo visto già la notizia che arriva da Castelnuovo. Poi andiamo a Silvi vicino l'accordo su Andrea Scordella come candidato unico del centrodestra. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere anche le notizie da L'Aquila. La piattaforma ecologica apre il 9 maggio. Rifiuti ASM e la raccolta differenziata ci sarà l'ultimo collaudo dopo due anni di stallo dell'impianto. Sulle tasse Mattarella ci darà una mano, lo dice il vicepresidente Lolli e lo dice anche il sindaco dell'Aquila, Biondi. Poi ricerche vane nessuna traccia di Ezzi. L'Aquila in campo anche i cani molecolari. Oggi arriva la protezione civile. Nella pagina successiva furgone nella Scarpata. Feriti sei operai. Nella tragedia sfiorata in tutti i residenti nella Valle Roveto. Tre sono gravi. Andiamo a vedere la pagina successiva che è quella di L'Aquila sul messaggero. Tasse post sisma da restituire. Scende in campo Mattarella. Il titolo di apertura. La lettera della commissaria europea Vestager al primo cittadino. Comprendiamo la sofferenza del vostro popolo. Poi in commercio ecco le regole attese da 15 anni. L'assessore Piccinini ha illustrato il disciplinare per Gazebo e Chioschi. Nella pagina successiva Fraternatau a pranzo con gli invisibili. Viaggio nella struttura che ospita 40 senza dimora. Nella pagina successiva andiamo nella Marsica. Vaccini esplode la rivolta dei sindaci. La chiusura degli ambulatori scatena la polemica politica. Nella Marsica ne sono rimasti solo tre. È inaccettabile l'ennesimo scippo. Le conseguenze verranno ancora pagate dalle fasce più deboli. Il manager Tordera accampa solo scuse. Queste sono le motivazioni della polemica. Ad Avezzano comune. Ieri riunirono i febbrini per evitare l'ennesima crisi della consigliatura del sindaco De Angelis. Già che ci siamo restiamo sul messaggero. Andiamo ad aprire la pagina dell'Abruzzo Sport. e parte chiaramente dal Pescara. Pescara ora guai a esaltarsi troppo. Pilon insiste. La salvezza arriverà solo lottando fino all'ultima giornata. Preoccupare è la solita crisi d'ansia quando ormai il risultato è al sicuro. E poi la domenica bestiale di Mancuso. Bomber chitarrista. Autore della tripletta che ha portato il Pescara a vincere. E poi di Francesco Sogna la Champions. Oddo, ciao. La loro esperienza in biancazzurro comunque collegata a Zeman. Tifosi in partenza per la capitale. Massimo Oddo. All'addio dall'Udinese. Nella pagina successiva completiamo così la lettura del messaggero. Amadio suona la carica. Teramo niente calcoli. Il centrocampista potrebbe rientrare a Fano. Inutile fare previsioni pensiamo a noi. Il Sant'Arcangelo potrebbe avere una ulteriore penalizzazione. Il club colettivo di stagione. Il Pineto. La serie utile fa sognare in grande il successo nel derby all'Aquila. Apre le porte alla possibile post-season. Nel taglio basso l'Aquila ha pagato nel derby lo stress societario. Una partita persa proprio contro il Pineto. Andiamo adesso a vedere le pagine di sport sul centro. Ripartiamo dalla serie B. Biancazzurri e la corsa salvezza. Riscossa Pescara. La cura Pilon funziona. Il Deffino respira dopo l'acuto con lo Spezia. Il tecnico ha dato un'anima alla squadra. L'ex Lapadula fa i complimenti a Perrotta. E qui vedete proprio nel taglio alto tre scatti della carica di Pilon in panchina. Nel taglio basso Paolucci. Gara salvezza contro il passato. Il centrocampista della Ternana sfiderà sabato la squadra della sua città. Nel frattempo la partita fra Frosinone ed Empoli è finita 2 a 4 per i Toscani. Empoli show sabato può fare festa. Andiamo in serie D. Amaulo ci davano per molti morti ma il mio Pineto ora è quarto. Le abruzzesi del girone F con il Pineto sugli scudi e la rivincita del tecnico. Diamo in eccellenza nel taglio basso. Rischio spareggio in coda. Domani l'ultima giornata di campionato. Il derby River 65 Chieti si giocherà a San Buceto. Nella pagina successiva a Francavilla cadono i big. Travaglia subito eliminato. Tennis agli internazionali d'Abruzzo. Lascolano ma in partita battuto da Oliveira. Oggi da seguire il derby Vanni Viola. Avanzano Baldi e il britannico Brodi. Andiamo a vedere anche i titoli della città nelle pagine di Sport. Teramo. I playoff scappano all'ultimo respiro e siamo al basket. Infortuni esonero del coach. Trasferte improduttive. Il risultato di una stagione da cui bisogna ripartire. Il cammino del Teramo Basket si ferma dopo l'ultima gara della stagione regolare. Nel derby tanto atteso contro campi. È già tempo di guardare alla prossima stagione. Nella pagina successiva ancora il basket. Sharks capò a Verona ma la testa è già a Roma. Sconfitta pronosticabile in Veneto ma le attenzioni sono tutte alla gara 1 al Palatiziano domenica prossima. Andiamo ancora avanti e troviamo il titolo sul Teramo. Teramo benedette siano le penalizzazioni. Solamente le sciagure altrui tengono in vita una squadra che da domenica è quella che ha fatto meno punti di tutte. Un solo risultato a disposizione. I risultati degli altri campi impongono al diavolo di giocare solamente per la vittoria a Fano. Era questa l'ultima notizia della nostra rassegna stampa. Mattino 6 torna domani alle ore 8. Grazie per averci seguito e buona giornata. Grazie per averci seguito e buona giornata. Grazie per averci seguito e buona giornata.